Oggi si prepara, credo che partire in prima fila considerando Bruno e questa pista è buona. Variazione di temperatura sull'asfalto, sai già come fare? Siamo domani, ci sono vari fattori, temperatura, gomma, condizioni dove dobbiamo decidere capire quale sarà la miglior combinazione per domani, soprattutto di gomma, però fino a domani non sappiamo. Credo che tra le scelte che abbiamo di gomma, la O, la B, abbiamo girato apparecchio con l'una e con l'altra e il risultato è buono. Carlo, bocca al lupo!